Siamo pronti. Ragazzi, indietro. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Abbiamo carburante sufficiente per altri due giri. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Splendido hai appena registrato il miglior tempo. Aspettati di vedere pioggia tra 10 e 15 minuti. Siamo pronti. Siamo pronti. Il serbatoio è praticamente vuoto. C'è carburante per meno di un giro. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Ci sembra di vedere pioggia. arrivo previsto tra circa 15 minuti. Arrivo previsto tra circa 15 minuti. fatto. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. L'immrollatore. Esquiette rotare le paureze gig Google. L'imm�ia 24 minuti. Siamo pronti. Oggi. Siamo pronti. Il dormiero di duegwicki. L'immché. Questa finzione. Oraшina di pliego. Grazie a tutti. 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 e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Ok, il distacco è 0,8 secondi. Monta gomme dure usate. Le sue gomme sono state montate 7 giri fa. L'ultimo giro è stato 2,41,2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. Stai perdendo un secondo. Grazie a tutti. hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente semplicare per adesso. Grazie a tutti. 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 a tutti.